Bentornati su NVR, l'unico show che esplora il mondo della realtà virtuale. Io sono Lumiere e nell'episodio di oggi vedremo i nuovi personas dell'Apple Vision Pro. Sono incredibili, ti permette di poter vedere i film insieme ad altre persone. E sì, come il Quest 1 sta morendo, l'anniversario dei dieci anni di Meta che ha comprato Oculus e anche degli occhiali che ti permettono di avere eye tracking senza nessun tipo di dispositivo davanti. Quindi praticamente è una roba invisibile. Come sempre, se arrivate fino alla fine del video, fino profondo, gigantesco, fatemelo sapere. Ok, allora iniziamo con l'Apple Vision Pro. Nell'aggiornamento 1.1 c'è stata quindi una beta che finalmente ha portato un aggiornamento delle personas. Le vengono definite special personas perché sono un aggiornamento che porta gli avatar 3D. Le personas sono essenzialmente gli avatar, quelli quasi fotorealistici, più o meno, dell'Apple Vision Pro che essenzialmente tu puoi usare per chattare, per fare videochiamate, anche tipo fare FaceTime, eccetera. Ecco, quegli avatar lì sono 2D, ma con il nuovo aggiornamento diventano 3D. Questo perché? Perché le puoi usare in uno spazio 3D. Ma questo spazio 3D può essere condiviso. Infatti puoi vedere un film insieme ad altre persone che non sono con te. Cosa incredibile. Allora, di base, quindi questi special personas ti permettono, se più persone hanno quindi l'Apple Vision Pro, potete fare praticamente una chiamata tutti insieme e poter vedere tutti allo stesso tempo, in tempo reale, un film, una lavagna, poter interagire con quella. E la cosa assurda ovviamente è che tutti possono interagirci. Se tu sposti la lavagna, tutte le persone lo vedranno. Ci sono cose nel caso dei film in cui tu puoi stare insieme ad un'altra persona, quindi un altro avatar che non è veramente lì. Lo potrai vedere sia in ambienti completamente virtuali che nella tua casa. Questa cosa è un po' assurda. Puoi vedere contenuti come Apple TV+, Disney+. E ovviamente quando tu vai a spostare, per esempio, che ne so, vuoi vedere un minutaggio, vuoi rivedere il momento prima e quindi spostare il cursore di un film o andare avanti e indietro in un film, ecco, ovviamente lo vedi in tempo reale. Puoi fermarlo in tempo reale ed è assurdo. Ora, non solo gli avatar sono stati migliorati, come abbiamo visto nelle notizie VR scorse, ma soprattutto quando tu vai a mostrare un contenuto, che sia un film, che siano degli elementi 3D, delle lavagne, Apple ha proposto questo bannerino qua, che ti mostra questi disegni, questi tre tipi di immersione. Quindi una è side by side, che è tipo il cinema, surround, in cui puoi interagire e stai intorno ad un elemento 3D, e poi conversational, per esempio, questo qua, che ti permette di vedere e di interagire con un oggetto o tipo una lavagna. E come si è visto da questi disegni, ci sta solo un elemento verde, no? Solo un elemento che viene condiviso. In questo caso, perché se tu, chiaramente, stai in casa tua e non stai usando un mondo completamente virtuale, non è che condividi la tua casa, cioè non è che la persona vede la tua casa, no. ognuno vede il suo ambiente, ma ci sono degli elementi che sono condivisi. Quindi in questo caso, la cavolo di lavagna. Anche lì ci sono cose come giochi, per esempio, della Resolution Games, che ti permette di giocare a scacchi, a solitario e tantissime altre cose. Il che è incredibile, il poter giocare insieme con degli avatar del genere, in un modo spaziale, stando nella tua casa. Bellissimo. Detto questo, parliamo di meta, perché ha fatto una roba del genere, cioè, però, what? Ha aggiornato Horizon Workrooms. Ecco, Horizon Workrooms è sempre stata un'applicazione molto, molto bella. Ti permette di interagire con le persone, un po' come abbiamo visto, in questo caso, con l'Apple Vision Pro, con proprio degli avatar, è molto carino e fantastico. L'hanno aggiornato in bene, ma anche in peggio. Una delle cose più complicate di Horizon Workrooms era quello di semplicemente creare una stanza e invitare le persone. Era un po' fastidioso, dovevi creare un invito, poi attraverso un sito, collegare, insomma, era una roba che veramente no. Adesso, invece, è molto più facile, viene migliorato un sacco, ci sono tante migliorie, proprio una lista che ha pubblicato Magda in un blog post, che rende quindi il fatto di creare le stanze, il fatto di creare degli ambienti o comunque delle riunioni, molto più facile. Se non che, sì, lo stanno rendendo molto più facile, con meno frizione, il problema è che hanno tolto lavagne, poster, luoghi, link, chat, i layout delle Workrooms e addirittura, questa cosa, ragazzi, non la sto capendo, il supporto alle tastiere dotate di tracking. Ci sono alcune tastiere che ti permette di poter usare e vederle, quindi usarle nella vita vera e poterle vedere direttamente in VR, come se ci fosse quasi un riquadro e comunque poterle utilizzare. Questa cosa qua non la capisco, cioè, se c'è una cosa che deve funzionare in VR, in un'applicazione per il lavoro, Workrooms, stanze del lavoro, è una tastiera che ti permetta di scrivere più velocemente, invece che usare un sistema della tastiera digitale che c'è su Quest, che è veramente orredda. È migliorato, secondo Meta, Workrooms, perché l'hanno semplificato e sono d'accordo ed è molto più facile adesso entrare, uscire, invitare, fare tutte quelle robe là, però hanno tolto un botto di roba. Quindi, innanzitutto, io non ho una tastiera di questo tipo, però, ecco, Meta, rimettile. Cioè, non è che per semplificare devi togliere, se no... Quindi unisco tutto. Il fatto che sono passati dieci anni da quando è stata acquisita Oculus e poi sì, che il Quest 1 ci sta abbandonando. Allora, sì, sono passati praticamente dieci anni, anzi, oltre dieci anni, se il blog post non mente dovrebbe essere esattamente il 3 aprile 2014, in cui è stata acquisita, e il momento in cui vedete questo video probabilmente sarà già il 5 aprile. Però, comunque, sono passati dieci anni. Per chi non lo sapesse, Meta, Facebook, quindi ai tempi, acquisì Oculus per circa 2 miliardi di dollari. Inizialmente gli lasciò fare più o meno quello che volevano. Ci stanno appunto foto di Zuckerberg e Palmer Lucky. Palmer Lucky è il ragazzo che ha fondato e ha creato i visori Oculus. Successivamente, ecco, per farla breve, piano piano, se ne sono andati tutti. Palmer Lucky, John Carmack e tantissime altre persone, come proprio il logo Oculus, se prendete adesso un visore Quest, non si chiama più Oculus Quest, si chiama MetaQuest. Perché poi, ecco, già fin da subito Facebook, prima di diventare Meta, stava uccidendo il brand Oculus, come tutti i dipendenti alla fine. Solo che successivamente fece proprio il cambio da Facebook a Meta, probabilmente perché Facebook non aveva tutta questa popolarità, non piaceva a molte persone, di conseguenza è arrivata Meta e sono diventati MetaQuest. Molti di voi probabilmente ancora hanno il logo, perché comunque a metà del ciclo di vita del Quest 2 si è passato dall'Oculus Quest 2 al MetaQuest 2. Lo stesso identico visore, cioè lo stesso identico, cambia semplicemente il logo, ok? Oppure se vedete i controller del Quest 2, quello sicuro, ecco, avete il logo di Oculus nel tasto Home, dove adesso abbiamo quello di Meta. Ecco, partiamo dal presupposto quindi che non è che abbia avuto tutta questa grande fama al di fuori e all'interno della community VR o Facebook, Meta, perché comunque distrusse, tutt'oggi continua a distruggere un brand molto amato che ha salvato letteralmente, salvato letteralmente la VR. E farò uscire un video riguardo quindi statene certi, restate sintonizzati e soprattutto iscritti al canale, perché non vorrete sicuramente perdervi quel video. Quindi sì, Oculus ha fatto tantissime cose, successivamente è diventato Meta, e devo dire che comunque il MetaQuest 3 è forse il miglior visore di sempre. È veramente un visore eccezionale, e per quanto gli si possa dire di tutto a Meta, ecco, rimane comunque che stanno facendo un buon lavoro. Non gli si può dire niente. Cioè, sì, si può dire un sacco di roba però. E quindi hanno fatto questo blog post, facendosi un po' a siamo fortissimi, abbiamo fatto un sacco di roba. Ecco, secondo me qualche scheletro nell'armadio potevano pure mettercelo. No, cioè, per essere un po' onesti. Quindi se volete leggerlo, ve lo lascio in descrizione. Parliamo di eye tracking invisibile. Gabriele Mercier all'Istituto di Scienza e Tecnologia di Barcellona hanno presentato e testato una prima forma di eye tracking praticamente invisibile. Ora, è molto complicato spiegarvelo, quindi cercherò di renderlo il più semplice possibile, ma essenzialmente funziona che è un fotoricettore, ok? È fatto di grafite e tutti gli elementi sono molto, 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 molto piccoli, ok? Quindi di base non è invisibile, è che è molto piccolo. Questo fotorecettore, o comunque fotorivelatore per essere più corretti, funziona quindi che attraverso la luce che arriva riesce quindi a fare un'immagine e quella poi viene usata per eye tracking. In questo caso è così piccolo questo componente, ci sono varie strutture, ma comunque è molto, molto piccolo, che viene fatto vedere come il 95% della luce passa attraverso. Sappiamo che i nostri occhi non è che vedono roba, vedono luce. Quindi se tu riesci a far passare il 100% della luce, boom, hai fatto una roba invisibile, ok? È quello essenzialmente. Quindi quello che sono riuscito a fare, il 95% della luce è incredibile. Essenzialmente quindi viene fatto a passare della corrente che crea questa immagine su dei punti di grafene. Di base non è proprio fortissima questa roba, perché ha tanti problemi. il primo dei problemi è che funziona solo in superfici del genere, quindi che sono occhiali. Quindi non lo puoi per ora usare in altre casistiche, dipende molto della luce, e bisognerebbe cercare un modo più ottimale per mandare la corrente a questo punto. perché loro hanno fatto chiaramente il laboratorio, ma si dovrebbe trovare un modo di far passare la corrente a questo nuovo sistema strano. Però occhio, occhio, capito? Però occhio, questa roba qua è, diciamo, quasi come un esperimento per vedere se funziona una cosa del genere. E sì, sembra funzionare. Quindi immaginatelo non in visori, ma semplicemente in occhiali, che invece che avere delle robe intorno, degli occhiali un po' più grandi, semplicemente sono degli occhiali normalissimi. Puoi vedere attraverso, non lo sai, essenzialmente non te ne accorgi che c'è qualcosa davanti, e hai un eye tracking che ti permette di seguire gli occhi e poter interagire quindi con magari un'interfaccia. Cioè, che figo! Allora, parliamo del Quest 1. Oculus Quest 1, Meta Quest 1, chiamatelo come volete, probabilmente è più corretto dire Oculus. Il primo visore della serie Quest ha rivoluzionato tutto quello che conoscevamo dei visori. Uscito nel 2019 e quando poi è arrivato il Quest 2, già, diciamo dopo neanche un anno, nel 2020, già vedevamo un po' tremare i possessori di Quest 1. Io ero un possessore di Quest 1 e mi sono ritrovato quasi subito dei giochi non compatibili, dei giochi che non uscivano, eccetera. Come per esempio Resident Evil 4, che io volevo tanto giocare e poi l'ho giocato successivamente quando poi mi sono deciso di comprare il 2. Cosa assurda che, ecco, finalmente ha annunciato Meta che stopperanno l'arrivo ufficialmente di nuove applicazioni, quindi non sarà proprio supportato nessuna applicazione che arriva anche su Quest 1 perché hanno deciso di staccare finalmente la spina, ok? Essenzialmente. E tutto ciò succederà dal 30 aprile, quindi non vedrete più Oculus Quest 1 o comunque spiegamente la dicitura Quest 1 nello store, che sia nello store ufficiale, che sia in quello dell'App Lab. Non ci sarà più. A livello di strumenti, di sviluppatori, neanche lì potrai usarlo quando vorrai valutare che, ne so, un'applicazione non puoi farlo solo per Quest 1. Anzi, non ci sarà proprio supporto per il Quest 1, quindi Meta ti dice che devi partire dal Quest 2 in poi, che è un bene, che è un bene, secondo me. E se ci pensate, questa cosa qua di togliere il Quest 1 arriva dopo circa 5 anni, quindi dal 2019 al 2024. Molto interessante. Io il Quest 1 l'ho sempre trovato un visore fin da subito molto pesante, neanche troppo troppo comodo, però è stato il mio primo visore e sono veramente veramente affezionato a lui. Ho subito comprato la mia prima strap e lo adoro, lo adoro. Per esempio, ecco, tra l'altro mi sono ritrovato ad avere un Quest 2 che era decisamente migliore rispetto al Quest 1 proprio a livello di qualità visiva, però per esempio nel caso del Quest 2 e del Quest 3 mi sono ritrovato con un salto decisamente maggiore dove però quando parlavo di Quest 2 consigliavo alla gente di passare da Quest 1 a Quest 2 perché già avevano fermato l'acquisto del Quest 1 dopo neanche un anno dall'uscita del Quest 2. Nel caso del Quest 3 non tendo a consigliarlo subito rispetto al Quest 2 perché comunque il Quest 2 ancora vende, ancora è valido e costa molto meno, quindi curioso come il Quest 1 comunque puoi usarlo. Cioè per carità non viene messo listato, non escono nuove applicazioni quindi non ci saranno aggiornamenti però potenzialmente se tu usi Site Quest puoi comunque installare applicazioni o comunque i giochi che hai già installato o già comprato puoi comunque o che sono dello store puoi comunque giocarli. Quindi se avete ancora un Quest 1 e vi sta bene quel visore tenetevelo e continuate a giocare ai giochi che tanta roba. Ecco lì il supporto ai giochi online penso che se già quasi tutti non ti permettano di giocare ecco se ne andrà tra poco. Eccoci arrivati a Profondo Gigantesco oggi prendo il commento di Echicinosu Kikes 86 Ciao è possibile giocare con i giochi VR della Playstation 4 nella console ho dei giochi in libreria per Playstation VR 1 e sarebbe bello poterli utilizzare sul Meta Quest 3. La risposta è no purtroppo come Playstation 5 che funziona solo con Playstation VR 2 Playstation 4 funziona solo con Playstation VR 1 quindi tu non puoi collegare il tuo amatissimo Quest 3 alla Play 4 purtroppo non puoi farlo neanche sulla Play 5 per la cronaca quindi se avete questo dubbio no non si può fare. Ora che magari mi son perso qualcosa e ci sta magari una mod particolare per poter collegare un altro visore non lo so non penso ultimamente ecco Playstation sembra che si stia cercando di aprire alla PC VR ma ecco parliamo di adesso Playstation VR 1 ecco Playstation VR 1 si che si poteva collegare ovviamente solo dato non Playstation non voleva questa cosa si poteva collegare al PC però 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 non la Play 4 quindi non puoi usare un altro visore nella Play 4 quello ancora purtroppo no e penso che resterà così ecco è un vantaggio che hanno però do ragione a tutti quelli che effettivamente arrivano su Play 5 con una libreria enorme di giochi Playstation VR 1 prendono il loro Playstation VR 2 e dicono vai mi rigioco tutta la libreria e purtroppo no purtroppo no purtroppo no non è retrocompatibile Playstation VR 1 con il 2 quindi se tu hai un'intera libreria di giochi Playstation VR 1 non li puoi giocare su Play 5 ah Playstation Playstation queste erano le notizie di questa settimana io come sempre sono Lumior potete iscrivervi al canale se vi piace il mondo della VR e dell'XR qua ci sono dei video che ti potrebbero interessare questo è fico ma pure questo questo è bello e niente dai ci sentiamo ciao ciao